Allora, in questa lezione vediamo come possiamo utilizzare software ANSYS per calcolare una semplice struttura reticolare. Noi faremo riferimento all'ANSY Tutorial Release 9.9. Allora, supponiamo di avere una mensola rettangolare, le quote sono in pollici, 35 pollici e 20 pollici, che è sostenuta da una travatura reticolare. Vediamo ad una estremità e all'altra estremità. Quindi il nostro problema sarà quello di calcolare appunto questa struttura reticolare semplice, costituita due aste, la 3,2 e la 2,1, incernierate, con vincoli, che sono cerniere, in 3 e in 1. Si può ritenere che in 1.200 pound possono distribuirsi 300 sul nodo 1 e 300 sul nodo 2, per ragioni in simmetria. E qui vediamo la sezione trasversale delle aste, che sono uguali entrambe. Allora, per prima cosa dovremo aprire una cartella in cui inseriremo tutti i risultati della nostra analisi. La nostra cartella è questa, Tutorial 1A. Poi apriamo WordPad, o qualunque editor in grado di editare un file tipo testo, un file in codifica ASCII, e scriviamo un file di questo genere. Quando abbiamo queste istruzioni precedute a un backslash, fanno parte della sintassi e quindi vanno prese così come sono, in questa prima fase. Le frasi invece che sono precedute da un punto esclamativo sono frasi di commento. Allora, la prima cosa si stabilisce l'elemento, l'elemento tipo 1, abbiamo solo un tipo di elemento, solo aste, e sono quelle che si chiamano i link 1. Dopodiché diamo le caratteristiche del materiale, anche qui abbiamo solo materiale, quindi mettiamo materiale 1, se avessimo più tipi di materiale avremmo altre istruzioni con materiale 2, ma questo lo vedremo nell'esercizio successivo. Quindi, materiale 1, 3 per 10 alla settima. Queste naturalmente sono pound allo square inch. Poi, sempre come proprietà del materiale, diamo anche il rapporto tipo a son, materiale tipo 1, 0,27. Qui inseriamo R, 1, le sezioni trasversali delle aste. Poi diamo le coordinate nodali, qui abbiamo le X, le Y, le Z. Z perché il software prevede anche, ovviamente, delle strutture nello spazio. Noi consideriamo una struttura piana, quindi, diciamo, i valori delle Z saranno sempre 0. Nel nodo 1 abbiamo queste coordinate nodali, 0, 0. Nel nodo 2, 20 e 0. Nel nodo 3, 0 e 15. Poi definiamo le connessioni, ossia stabiliti i nodi, diciamo che l'elemento numero 1, l'asta numero 1, connette il nodo 1 e 2. L'asta numero 2 connetterà il nodo 2 e 3. Poi definiremo i vincoli. I vincoli vengono definiti imponendo gli spostamenti nodali. Dato che abbiamo due cerniere, gli spostamenti nodali sia lungo X che lungo Y devono essere 0 per entrambi i nodi. Dopodiché definiremo i carichi applicati, le forze. Al nodo 1 abbiamo una forza lungo X, meno 300 pound. Meno vuol dire che è diretta verso il basso. Nel nodo 2, qui c'è un errore, abbiamo una forza Y anch'essa, come abbiamo visto, pari a meno 300 pound. Dopodiché prendiamo questo file, lo salviamo e lo chiamiamo T1A come documento testo codifica ANSYS. Io l'avevo già salvato, lo risalvo. E dopodiché siamo pronti per aprire ANSYS e iniziare la sessione di lavoro. Per prima cosa definiamo la directory di lavoro. Il creato di lavoro che abbiamo detto era in E, CD-ROM, ESEANSYS, TUTORIAL1A. E poi leggiamo i dati, quindi il file che abbiamo scritto prima, che si chiamava T1AXT. Adesso andiamo a verificare se la geometria è corretta. Quindi andiamo su plot, qui abbiamo i nodi, plot gli elementi, e adesso mettiamo anche i numeri però, quindi andiamo su control, plot, plot control, e diamo i numeri dei nodi. Quindi abbiamo, vedete, l'asta 3, 2, 2, 1, e così via. Adesso siamo pronti per la soluzione. Quindi, soluzione, solve, la struttura corrente. La struttura è stata risolta. Adesso andiamo nel post processor, perché l'abbiamo già processata la struttura. Quindi andiamo su plot result, e andiamo a plottare la deformata. Vogliamo plottare sia la deformata, sia la struttura indeformata. Ecco, questa è la deformazione. Possiamo anche, volendo, animare, quindi vedere sempre deformata con indeformata, e qui vediamo come dinamicamente la struttura si deforma. Adesso andiamo a vedere i risultati numerici, list, nodal solution. Andiamo a vedere gli spostamenti nodali. Vogliamo anche lo spostamento somma. Somma sempre vettoriale. E qui abbiamo gli spostamenti. Vedete il nodo 1 e il nodo 2 non si spostano, e il nodo 3, scusate, non si spostano, il nodo 2 ha questi spostamenti. Questo file lo salviamo e lo chiamiamo spostamenti. Dopodiché andiamo a vedere invece la soluzione elemento per elemento, asta per asta. Quindi element, circuit result, element result. Qui vediamo l'elemento 1, quello che collega il nodo 1 col nodo 2, che è stato realizzato in materiale tipo 1. non ha un rialzo termico. Anche Fluences non ci interessa in questa fase, verrà utilizzato quando faremo dell'analisi in cui interviene il creep e così, ma ora non ci interessa. Questa è la forza di compressione che agisce sull'asta 1,2, meno 400 pound, e questa invece è la tensione di compressione 3200 pound square inch. Poi l'elemento 2, quello che collega il nodo 2 e 3, avrà una forza di trazione di 500 pound e una sigma, diciamo, di trazione, 4000 pound inch quadrato. Noterete che segno meno nelle forze sta in identifica dei puntoni, quindi, diciamo, l'asta che collega il nodo 1 con il nodo 2 è ovviamente un puntone, mentre il nodo 2 e il nodo 3 sarà un tirante. E con questo abbiamo finito.